Aveva nascosto in una intercapedine del vano portaoggetti una busta in plastica contonente piccoli involucri di celofan pieni di cocaina per un totale di 120 grammi ancora da tagliare. E' stato arrestato e sottoposto ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un andriese di 38 anni con precedenti specifici al termine di un controllo effettuato da agenti di polizia in borghese sulla SP231. Gli investigatori in abiti civili, come detto, durante un servizio di perlustrazione sulla provinciale hanno notato un furgone utilizzato per effettuare il trasporto e la vendita di indumenti usati che improvvisamente ha imboccato uno svincolo per raggiungere il centro cittadino. Insospettiti allora gli agenti hanno fermato il veicolo e durante il controllo hanno rinvenuto la droga. La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed analizzata ed il soggetto tratto in arresto in flagranza di reato. L'uomo è stato poi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.